Ciao, mi presento, io sono Ilaria, sono una mamma, una moglie, una dipendente a tempo pieno. Io ho conosciuto il network marketing nel novembre del 2019, dopo essermi incuriosita nel leggere un post esattamente come quello che hai letto tu. All'inizio avevo paura di affiancare una seconda attività, avevo scoperto da pochissimo di essere incinta e di aspettare il mio secondo bimbo e quindi il timore di fare una scelta azzardata ed egoistica era molto alto, però nello stesso tempo avevo un forte desiderio di aggiungere un extra alle mie entrate familiari che mi permettesse però di stare accanti ai miei bimbi. Inutile dirti che tutte le paure, i dubbi e le incertezze iniziali sono svanite nel giro di pochissimo tempo, adesso ho la libertà di gestire la mia attività online da casa, oltre che dove voglio, senza vincoli e soprattutto senza togliere del tempo alla famiglia. E adesso ti spiego in cosa consiste. Allora, questa non è la tipica attività in cui bisogna andare alla ricerca forse nata di clienti, in cui bisogna stressare le persone, rompere le scatole perché magari devi convincere a comprare qualcosa oppure far vedere un catalogo. No! Oppure noi non siamo quelli che andiamo alla ricerca di gente per fare le riunioni, le telefonate. Assolutamente no! Anche perché io ritengo che questa maniera di lavorare è molto scocciante per chi la subisce, ma poi anche per noi diventa molto faticosa e non porta i risultati che noi vorremmo. Noi cosa facciamo invece? Praticamente noi lavoriamo online e usando i social, poi magari te lo spiego un po' meglio. Noi in pratica creiamo una situazione esattamente al contrario, cioè sono le persone che sono realmente interessate a fare l'acquisto di un prodotto oppure di un servizio che si rivolgono a noi perché vogliono il supporto e perché magari vogliono essere aiutate a completare il loro acquisto. Quindi fondamentalmente il nostro lavoro consiste nel dare supporto alle persone che ce lo chiedono, quindi dandogli le ultime informazioni, il materiale aziendale, le schede tecniche, raccontando la nostra esperienza personale, insomma tutto quello di cui loro hanno bisogno e poi nel caso aiutarli a completare il loro acquisto. Ecco benissimo, ogni volta che si verifica questa cosa l'azienda ci dà un premio e ci dà delle provisioni che sono molto alte perché comunque New Age, che è il nome della nostra azienda partner, ha il piano compensi considerato il più remunerativo al mondo, per cui è normale che questa cosa di ricevere richieste di informazione, dare supporto alle persone e poi portarle in azienda, è normale che produca una certa ricchezza, anche se ti devo dire che questa cosa non va fatta per sempre perché dal secondo mese in poi, in genere, dico io, a questi guadagni se ne possono aggiungere altri, nel senso che si può guadagnare dal lavoro della propria struttura, del proprio team, tu pensa che ci sono addirittura nove fonti di guadagno. Ora faccio un piccolo passo indietro per spiegarti come si fa a guadagnare con i social, altrimenti sembra assurdo che si possa guadagnare utilizzando i social. Innanzitutto per social io intendo o Instagram o Facebook o Whatsapp o TikTok, insomma quello che uno vuole utilizzare. Cosa facciamo? Noi semplicemente insegniamo ad avere dei profili social attrattivi. Cosa significa? Significa che noi non mettiamo pubblicità, gli sconti, i codici, non mettiamo i prodotti, cioè non è che siamo influencer che dobbiamo farci mandare il prodottino dall'azienda per poi mostrarlo alle persone, no, assolutamente no. Noi insegniamo ad avere dei profili attrattivi raccontando la propria vita, mostrando la propria quotidianità, però al tempo stesso insegniamo a fare le stories per bene. Allora tu sai benissimo che le stories dopo 24 ore spariscono, per cui nelle stories su Instagram, su Facebook oppure su Whatsapp possiamo essere un po' più spinti commercialmente, no? Allora noi insegniamo a mettere nelle stories oltre a raccontare la propria vita, anche a mettere le slide, le fotografie dei prodotti, è come se fosse insomma la pubblicità all'interno del film della tua vita. Quindi cosa succede? succede che la persona che magari sta cercando quel determinato prodotto, oppure che ti segue e si imbatte nelle tue stories e poi atterra sul tuo profilo, sicuramente noterà che avrai un profilo curato, tenuto bene secondo le indicazioni che noi ti diamo, quindi quella persona ti sceglie per il suo acquisto e ti utilizzerà come punto di riferimento per i suoi acquisti successivi. Ecco perché vi dico sempre che questo inizia come un lavoro e poi si trasforma in un vero e proprio business. In questo lavoro non ci sono obblighi, qui non ci sono investimenti da dover fare, orari da rispettare, perché qui noi non abbiamo un datore di lavoro, un capo, cioè non c'è nessuno che ci deve dire cosa dobbiamo fare, quanto dobbiamo fatturare. Noi, come posso dirti, noi siamo degli imprenditori digitali, ecco e come tutti i lavoratori autonomi noi ci possiamo autodeterminare, cioè pensa che tu qui puoi aprire il tuo codice, puoi iniziare a lavorare e che so, fra sei mesi, oppure aprire il codice e chiuderlo senza pagare i penali, perché come ti dicevo non dobbiamo rendere conto proprio a nessuno. Peraltro l'apertura del codice di solamente 29 euro, anzi 29 euro e 95 centesimi, una volta solamente, che ti dà possibilità di usufruire di uno sconto del 30% per sempre su tutti i nostri brand, 29 euro e 95 centesimi che vanno tutti interamente alla nostra azienda, a New Age, che in cambio ti dà il tuo back office. E adesso ti spiego cos'è questo back office. Il back office è il tuo sito internet, è il tuo ufficio virtuale all'interno del quale tu puoi vedere l'andamento del tuo business. Puoi vedere come lavora e come cresce il tuo team, puoi ovviamente fare formazione aziendale, no? Che è vastissima. Puoi inserire gli ordini per i tuoi clienti, anche se, ti confesso, adesso loro fanno ordini e riordini da soli attraverso dei link che noi diamo. Però la cosa più figa in assoluta e che proprio a me piace di più è che nel back office tu puoi vedere istante per istante come crescono i tuoi guadagni. Devi sapere che noi, in New Age, i nostri soldi, i nostri compensi, li riceviamo ogni settimana, praticamente ogni venerdì. L'azienda ci accrae da un bonifico in banca e noi, secondo per secondo, possiamo vedere come crescono i nostri guadagni e possiamo sapere con una settimana di anticipo quanti soldi ci manderà l'azienda. Tutto, ovviamente, lo troviamo all'interno dell'applicazione New Age Share. Ti dico in più un'altra cosa che di recente è stata lanciata un'app solo del nostro team, Team Tempesta, ce l'abbiamo solo noi e la trovi già nel store per device e ti sarà utilissima per lavorare. Allora, New Age è un'azienda multibrand. Cosa vuol dire multibrand? Significa che include, racchiude al suo interno tante categorie merciologiche. Questo perché? Perché ci permette di essere sempre competitivi, di non avere mai saturazione. Noi non andiamo mai in crisi, infatti ogni giorno riceviamo tantissime richieste di supporto da persone da ogni parte del mondo per ogni tipo di prodotto. Parliamo di prodotti di consumo, tutti ovviamente approvati, pluricertificati a livello mondiale, europeo e italiano, dai ministri italiani e ovviano, altrimenti non sarebbero sul mercato. Come dicevo prima, è un'azienda multibrand per cui c'è la skincare, cioè questo trattamento di lusso per la bellezza delle donne, ma è una linea veramente di lusso per tutti i nostri clienti benestanti e sono proprio tantissimi. Poi c'è la cura del corpo, gli oli essenziali, l'integrazione, l'integrazione anche per gli sportivi in fase avanzata perché ovviamente i prodotti sono tutti naturali, sono antidoping, non sono testati su animali e poi c'è la depurazione dell'aria, dell'acqua, il controllo del peso, energy drink, make up, insomma la gamma di prodotti si allarga sempre di più per cui noi possiamo stare veramente tranquilli perché avremo sempre sempre qualcosa da promuovere. Sono fondatrice dell'Opportunity Team, il team invece di cui faccio parte, il team Tempesta, conta più di 8000 membri. Pensa che di tutte queste persone molti hanno lasciato il loro lavoro principale per vivere solo di network, altre invece la stragrande maggioranza lo fanno come secondo lavoro all'inizio proprio come me perché magari con impegno e con costanza si accontentano di avere 100, 200, 300 euro ogni settimana che sembrano poca roba ma di questi tempi è davvero tanta tanta roba. Ecco perché ti dico così, qui puoi stare tranquilla, qui ti prenderemo per mano per ognuno c'è un metodo per ogni persona, andiamo a trovare la maniera di lavorare. Anche se tu hai a disposizione una sola ora al giorno, tranquilla, magari lavori, studi, hai bambini, non ti preoccupare perché noi troveremo la tua maniera di lavorare. Oltre alla formazione che l'azienda ci mette a disposizione avrai costantemente il mio supporto e quello di tutte le ragazze del team, il tutto sarà sempre gratuito e quindi come si dice l'unione fa la forza! Cominciare è facilissimo perché se hai davvero voglia di avere quell'extra per diventare libera totalmente io ti darò un link. Devi solo cliccare inserire pochi dati grafici, ti chiederà nome, cognome, data di nascita, quelle cose lì. Per quanto riguarda le 29 euro invece puoi fare come se fosse Amazon, quindi Paypal o Postpay, puoi usare la carta, insomma questo lavoro è bellissimo perché puoi scendere liberamente già dal primo istante. Dopodiché dopo la registrazione farai ufficialmente parte del nostro team, ti prenderemo per mano con tutti i formatori che ci sono, mio marito e uno di loro, ti prendiamo per mano e ti aiutiamo a stravolgere la tua vita oppure ad avere quell'extra che ti fa sempre comodo. Quindi dimmi se hai bisogno di altro oppure schiocca le dita così iniziamo subito.